Un'analisi spietata, senza fronzoli, alla politica italiana da parte di chi ha vissuto da protagonista gli anni d'oro della democrazia cristiana. Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Funzione Pubblica e del Bilancio, sarà ospite sabato pomeriggio della libreria Palazzo Roberti per fare il controcanto alla storia ufficiale dell'Italia. Chi conosce bene Paolo Cirino Pomicino è Luigi D'Agro, altro esponente di spessore della DC, vice capogruppo dell'Udc alla Camera e, così si vocifera, prossimo candidato a sindaco di Bassano con Italia Viva. D'Agro presenta così l'incontro in libreria. Una prima repubblica rivisitata con gli occhi del dopo, con una vocazione di non nostalgia. Storia e politica, due mondi che insegnano e si ripetono cambiando i tempi, ma non il tempo che resta fisso sul presente per costruire il futuro. E a tal proposito, qual è, secondo D'Agro il racconto del presente di Bassano e della sua classe politica, partendo dalla considerazione che in vista delle prossime amministrative sembra configurarsi una tendenza al voto alla persona e non al partito. Che i partiti spariscano dalla competizione locale è un segno di debolezza. Credo che invece i territori, proprio in questo tempo, devono riorganizzarsi per competere. E nella competizione ci vuole la politica. Sulla corsa, uniti o spaccati, di Lega e Fratelli d'Italia a Bassano, l'analisi è pragmatica. La competizione all'interno del centro-destra fra Lega e Fratelli d'Italia potrebbe diventare anche lì una lacerazione a Bassano, così come l'è stato a Vicenza. E quindi il centro-destra dovrà fare i conti sul candidato che in qualche misura mette insieme una competizione moderata fra le due componenti. Così come è netta la valutazione che D'Agro fa all'attuale situazione politica della città. Politicamente la vedo fiacca, stanca e soprattutto dimessa. E sul suo futuro la chiosa lascia aperte tutte le possibili interpretazioni. C'è in ballo una mescita e bisogna vedere che vino migliore esce.